Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, quella in arrivo sarà domenica ecologica, previsto lo stop al traffico privato nella fascia verde cittadina dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30. Come di consueto ci saranno delle deroghe come ad esempio per le auto a benzina Euro 6 e poi per quelle elettriche, ibride, a GPL e a metano. Via libera anche per i veicoli con contrassegno disabili e per i mezzi dei servizi in sharing e ancora per i ciclomotori a due ruote 4 tempi Euro 2 successivi e per le moto 4 tempi Euro 3 e successive. Aggiornamenti e la mappa della fascia verde su romamobilita.it